buongiorno oggi sono felice ma perché perché taglio la spalletta eccola oggi si avvia la spalletta è o no perché noi siamo gente semplice siamo felici perché tagliamo la spalletta la spalletta no attenzione tangentopoli incredibile è sparito è sparito il mandracca è sparito tutto è sparito tutto tangentopoli ha colpito ancora tutto mandracca è sparito tutto e voi quanto sei contento che hanno più la tangente si ma quando però che hai fatto nonna maria? no sei bella uguale vai ho fatto la torta torta al testo stasera c'è la spalletta e adesso sto a finire il rosario e nel frattempo finisce il rosario perché tante volte si perde c'è quello dell'urde c'è quello dell'urde nemmo detto i tre tre rosari oggi ecco la protezione c'è qua ma nemmeno Laura non lo so ma nemmeno non ti metti i campi? chi è lui o no? scusa stavo per ti identificare eh? eh? chi è lui? non ti ho un amico anche lui? si 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 ugo 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 ugo